Siamo in un luogo molto particolare, professor Calzolari, e è stato proprio lei a scoprirlo. Ci vuole raccontare com'è stato questo momento? È un momento che risale a vent'anni fa ed è dovuto al fatto che qui sotto c'è una macina da cereali molto antica, si ritiene del V secolo come tecnologia, il V secolo a.C., quindi io portavo l'Università Popolare di Lerici, l'Università delle Tre Età, a visitare questa macina, passando qui davanti. E una sera, al rientro, c'era un problema, mi sono fermato e ho visto, qui era tutto coperto da rovi, come una possibilità della luce che entrasse, poi era quel foro. Andando via una sera dopo le 8 abbiamo visto una strana luce qui e non capivamo cosa fosse. Non c'è mai stato in letteratura un cenno a qualcosa del genere, quindi siamo ritornati, abbiamo fotografato e abbiamo fatto la prima fotografia della farfalla. Per il parco questo sito è fondamentale perché il recupero del sommerso storico che nel nostro parco e nel nostro territorio è importantissimo. Questo come, con l'aiuto del professor Cazzolari, stiamo cercando di valorizzarlo. È sottovalutato perché se ci fosse una manifestazione come questa in un altro sito europeo, di qualsiasi paese europeo, sarebbe un sito importantissimo e sarebbe valorizzato. Noi stiamo cercando come parco proprio di valorizzare questo. In funzione della valorizzazione noi domenica 3 faremo una passeggiata per arrivare qui al sito. Partirà dai Monti Branzi alle 18.30. Prego la gente di iscriversi perché naturalmente arriveremo sul sito e il professor Cazzolari ci spiegherà la storia, il rinvenimento e l'importanza di questo sito che non è soltanto la farfalla dorata ma è tutto questo che c'è intorno. Quindi il parco è teso a una grande valorizzazione storica e culturale, il parco è teso anche a fare di questo un sito archeologico preistorico importante.